Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. I servizi devono essere prestati senza discriminazione sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio. Il divieto di discriminazione è uno dei principi radicati dell'Unione Europea. Tutti i malati hanno dei diritti. Ottenerne il rispetto è un dovere, non un beneficio. Cittadinanza attiva, Active Citizenship Network ha realizzato la Carta Europea dei diritti del malato.